Musica Benvenuti all'appuntamento quotidiano con l'informazione di Aristanis TV. Battista Ghisu è il nuovo amministratore della provincia di Oristano. Sentiamo la nota di Paolo De Sogus. Battista Ghisu, esponente di spicco del Partito Democratico di Oristano, e il nuovo amministratore straordinario della provincia. Stamane con l'amministratore uscente Massimo Torrente nella sala della giunta di via Senatore Carboni un primo incontro pubblico con i giornalisti. Al nuovo amministratore abbiamo chiesto sul carattere del suo impegno che sarà politico prima di tutto, ha detto. Sì, è una responsabilità importante, cioè la giunta regionale, la presidente che ringrazio per la fiducia che è stata accordata a me e agli altri amministratori regionali in un momento particolare in Sardegna e per noi, per la provincia di Oristano, perché cade il cinquantesimo anniversario della istituzione di questo ente che è rimasto nella Costituzione. Dopo il referendum costituzionale, i cittadini italiani hanno detto che le province non si toccano, che le province sono utili, che le province fanno parte dell'organizzazione dello Stato che si divide in regioni e province comuni. Alle province sono rimaste tutte le competenze previste dalle leggi nazionali e regionali, e in particolare la viabilità, per esempio, mille chilometri di strade, che versano in condizioni di pericolo in molte situazioni locali, per le quali occorre un immediato intervento. La giunta regionale nei giorni scorsi ha deliberato già un finanziamento che è una goccia nell'oceano, però rappresenta un momento importante perché consente di eliminare alcune situazioni di grave pericolo per l'economità pubblica. La provincia di Oristano, con i presidenti che mi hanno preceduto nella storia della provincia, hanno sempre avuto un ruolo molto importante in Sardegna e hanno avuto un ruolo istituzionale. La prima cosa che farò è quella di incontrare prima il prefetto, le autorità civili e militari, in particolare poi i sindaci che sono l'ossatura della nostra provincia, i quali vanno ascoltati, sono il punto di riferimento, rappresentano le loro comunità. Abbiamo anche la competenza sulle materie ambientali che riguardano tutti i comuni della provincia. Abbiamo competenze in materia di dirizia scolastica, dove stiamo intervenendo con 18 progetti sul piano nazionale di ripresa e resilienza per l'ammodernamento di tutte le scuole secondarie e di tutti gli istituti superiori di Oristano, di Ghilarza, di Terralba, di Bosa e quant'altro. Abbiamo altre competenze in materia di disinfestazione, è molto sentito il problema della lotta agli insetti nocivi. Ci sono state anche delle morti in provincia di Oristano e in Sardegna, anche in Italia. Questo è un aspetto che va curato molto attentamente con la regione, perché i fondi non bastano, ma con i fondi che abbiamo cercheremo di essere presenti e di intervenire immediatamente. Nel suo saluto di comiato, Massimo Torrente ha inteso ribadire che il ricambio avviene in un momento che resta delicato dal punto di vista istituzionale. Ma intanto lascio un ente che comunque sembra un'inconcruenza e perlomeno sano dal punto di vista finanziario. Cioè noi in tutti questi anni, con sacrifici enormi, siamo riusciti a provare i bilanci sempre in equilibrio. Naturalmente a discapito di servizi che non sono stati seguiti nel modo più consono. Però anche quest'anno, che pure abbiamo avuto da parte della regione 600 mila euro in meno sul fondo unico regionale, siamo riusciti ad approvare un bilancio in equilibrio. Quindi questa è già una cosa importante. Poi è chiaro che questa gestione novennale della provincia che ha attraversato una crisi giuridica istituzionale gravissima non è che abbia potuto ottenere dei risultati ottimali. L'avremmo voluto ottenere, però abbiamo fatto sopravvivere la provincia, l'avremmo voluto portare alle elezioni come era giusto che fosse, perché per questo noi eravamo stati nominati e quindi resta l'amarezza di non poterlo fare. Un nuovo progetto di illuminazione pubblica per rendere la città di Oristano una città smart ed ecosostenibile. I dettagli nel nostro servizio. Un investimento di quasi 5 milioni di euro trasformerà l'illuminazione pubblica di Oristano con un sistema all'avanguardia che ridurrà i consumi energetici del 35%. Il progetto prevede la sostituzione di 5.171 corpi illuminanti con LED ad alta efficienza e la modernizzazione della rete semaforica con un risparmio energetico del 91% per 26 nuovi semafori. L'illuminazione pubblica utilizzerà energia al 100% rinnovabile. Il sindaco Massimiliano Sanna sottolinea come l'iniziativa, pur richiedendo tempo per la fase preparatoria, offrirà vantaggi economici e migliorerà la qualità della vita dei cittadini, valorizzando anche monumenti storici attraverso specifici progetti di illuminazione, come per la Torre San Cristoforo e Palazzo di Città. Fabrizio Ruggero di City Greenlight evidenzia che il progetto rappresenta un passo verso una città più smart, combinando sostenibilità e innovazione. Inoltre saranno implementati dei totemi informativi per i cittadini e delle soluzioni per la sicurezza stradale, inclusi attraversamenti pedonali migliorati per i povedenti e una colonnina di ricarica per dispositivi elettronici con defibrillatore integrato. Lunedì 30 settembre, mercoledì 2 ottobre, il cimitero di San Pietro di Oristano resterà chiuso dalle ore 8 alle ore 14 per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria. Fino al 24 ottobre sarà possibile presentare le domande al Comune di Oristano per i contributi di sostegno al canone di locazione per il 2024. I destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà pubblica o privata site nel Comune di Oristano e occupate a titolo di abitazione principale. E passiamo alla politica regionale. La giunta regionale nelle scorse ore si è riunita a Villa Devoto dove sono state discusse nuove iniziative e fondi per lo sviluppo della Sardegna. Nelle scorse ore sotto la presidenza di Alessandra Todde la giunta regionale si è riunita a Villa Devoto approvando diverse delibere principali. L'assessore all'agricoltura Gianfranco Satta ha proposto un percorso di formazione di 150 ore per giovani agricoltori gestito dall'Agenzia Laore per ottenere la qualifica di conduttore di impresa agricola. La giunta ha anche aumentato i fondi per le organizzazioni di produttori da 200.000 a 300.000 euro e modificato la scadenza per la presentazione dei programmi attività al 10 ottobre 2024. L'assessore al turismo Franco Cucureddu ha approvato nuove direttive per contribuire a imprese commerciali con dei fondi a disposizione per la creazione di un bando per eventi di Capodanno 2024. La giunta ha inoltre approvato 200.000 euro di contributi per associazioni di categoria nel settore industriale volti a supportare lo sviluppo della regione. Inoltre l'assessore Desiree Manca ha lanciato il bonus a funzionali di stabilizzazione del lavoro per supportare disoccupati e categorie vulnerabili e ha previsto finanziamenti per sportivi diversamente abili. Armando Bartorazzi, l'assessore alla sanità ha presentato diverse misure nel settore sanitario incluso il finanziamento per il Fondo per i diritti e le pari opportunità e la disponibilità di un nuovo farmaco per il trattamento dell'ipoglicemia. Marilena Mozzo ha introdotto la creazione di 88 punti di facilitazione digitale per promuovere i servizi online insieme a un protocollo per il progetto del minore. Francesco Spanedda ha proposto variazioni di bilancio e nuovi criteri di riparto per supportare i comuni in difficoltà. Infine, la Giunta ha riconosciuto lo stato di emergenza fittosanitaria per infestazioni nelle sugherette. E passiamo ora alla sanità regionale. Nuove iniziative della Giunta. Il glucagone nasale sarà gratuito e ci saranno nuovi aggiornamenti sulla formazione sanitaria. I dettagli nel nostro servizio. La Giunta regionale, presieduta dalla governatrice Alessandra Todde, ha deliberato l'inserimento del glucagone spray nasale tra i farmaci a carico del servizio sanitario regionale. Utilizzato per trattare l'ipoglicemia severa nei pazienti con diabete mellito, il farmaco finora a pagamento sarà disponibile su prescrizione specialistica e distribuito esclusivamente nelle farmacie ospedaliere della ASL. Su proposta dell'assessore Armando Bartolazzi, la Giunta ha anche aggiornato le linee guida per la formazione professionale in ambito sanitario con un adeguamento della remunerazione e dei percorsi formativi. Inoltre è stata approvata la programmazione delle risorse del Fondo per i diritti e le pari opportunità pari a oltre 1,3 milioni di euro. Gli uffici postali di Neoneli e Zerfaliu sono interessati dagli interventi previsti da Polis e Casa dei Servizi Digitali. In particolare i lavori presso le due sedi comprendono la completa ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi, il miglioramento del confort ambientale, l'inserimento di nuovi arredi progettati per facilitare l'accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del confort ambientale. Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, un mese durante la quale la salute delle donne diventa priorità. Sentiamo i dettagli nel servizio di Ariana De Zogus. Prenditi cura di te, tutte insieme contro il cancro. Ottobre si tinge di rosa e come ogni anno questo mese è dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la più frequente neoplasia femminile. L'associazione Le Belle Donne con la giunta comunale di San Vero Minis e l'Avis San Vero promuovono una giornata di visite senologiche gratuite eseguite da medici specializzati presso l'ambulatorio comunale in via Santa Barbara il 5 ottobre dalle ore 9 alle ore 13. Riconoscere un tumore in fase iniziale può dare grandi possibilità di guarigione, per questo sono importanti una regolare autopalpazione e le visite di prevenzione, questa è la prima cura. Le persone interessate sono invitate a prenotarsi inviando al seguente numero 370-128-1781 un messaggio Whatsapp con nome e cognome, luogo e dato di nascita. Verranno richiamate per l'orario della visita. E a Milis si prepara la 35esima edizione di Vini di Sardegna. Sentiamo sempre Arianna De Zogus. Fervono a Milis i preparativi per la 35esima rassegna Vini di Sardegna. Allestita per la prima volta nel 1988 dalla Proloco, dal Comune, da una felice intuizione dei sommelier Ernesto Collu, Filippo De Idda e Beniamino Bagnolo che avevano colto l'importanza di promuovere un prodotto allora innovativo come quello dei Vini Novelli. Ancora oggi un piacevole incontro con un pubblico composto in via prevalente da giovani ma anche di famiglie un appuntamento per incontrarsi gradevole di festa dello stare insieme. Col passare degli anni la produzione dei Novelli ha subito delle batute d'arresto ed ora a vinificare questa tipologia di vini sono rimaste solo 5 cantine. In dipendenza di ciò la Proloco Milese ha quindi rivolto la sua attenzione verso altri segmenti produttivi e ha avviato con successo la trattazione dei vini biologici e dalla scorsa rassegna anche ad una presentazione elitaria della Vernaccia con le differenti aziende produttrici. Oltre alle degustazioni dei vini ci saranno gli spazi per le proposte di show cooking e per l'intrattenimento musicale e un articolato di avvenimenti ha affermato il presidente della Proloco Luigi Murgia. L'evento in programma è il 9-10 novembre e avrà come epicentro gli spazi del Centro Storico Palazzo Boil e l'Anfiteatro Boil. Il Museo di Accesano Arborense renderà omaggio ad Angelo Cianella maestro ceramista che ha operato fin dai primissimi anni 60 nel nostro territorio con la mostra alle forme del fuoco. Quest'ultima sarà inaugurata sabato 28 settembre alle ore 19. Il lavoro realizzato da Cianella rappresenta una modalità totalmente nuova di concepire la creazione di un pezzo non più di artigianato ma d'arte proprio a partire dalle forme ribattando dunque il canone dell'esperienza come unico principio attuatore di pensare la ceramica. A Macomer un progetto di sviluppo del margine non è più tempo di navigatori solitari tanto meno quando lo spopolamento dei paesi in seguito alla crisi dell'industria minaccia la scomparsa del territorio. Si portano avanti misure alternative puntando su settori da valorizzare l'unione dei comuni del margine punta su un piano di sviluppo che si basa sulla valorizzazione dei beni ambientali lavorando sul cospicuo patrimonio naturalistico e quello storico archeologico che è uno dei più ricchi della Sardegna ma anche servizi soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. Per questo è stato concepito il progetto di sviluppo margine al centro che è stato già approvato dalla regione nel 2017 che era mirato alla realizzazione di una attrattiva turistica basata sulla valorizzazione dei beni storico ambientali favorendo la connessione del paesaggio rurale attraverso una rete di percorsi naturalistici e storici. Per procedere all'esame dello stato di avanzamento in previsione degli atti aggiuntivi si è tenuta una riunione di tutti i sindaci del margine più qualche amministratore insieme al vice presidente della regione e l'assessore alla programmazione Giuseppe Meloni il progetto è stato esposto dai tecnici Elio Cuscusa e Francesca Lissia al termine della riunione abbiamo intervistato l'assessore sullo stato dei lavori Siamo in una fase diciamo di ultimazione della precedente programmazione territoriale gli atti aggiuntivi fanno parte del processo di ottimizzazione che ha previsto delle rimodulazioni di tanti progetti in Sardegna e degli atti aggiuntivi per tutti quei territori che erano pronti e che hanno partecipato a due finestre di manifestazione di interesse presentate dall'amministrazione regionale abbiamo cercato di dare slancio impulso e far correre questi atti aggiuntivi abbiamo l'ambizioso programma e progetto di chiuderli entro dicembre del 2024 è molto difficile perché si tratta di ben nove progetti in tutta la Sardegna svariati decine di milioni di euro per quanto riguarda il margine appunto siamo nella fase dell'atto aggiuntivo perché si è concluso pressoché il 92% degli interventi della precedente programmazione e in questi atti aggiuntivi rappresentano un di più anche una premialità anche per questo territorio che ci crede ho visto un territorio unito compatto che vuole partecipare vuole dare delle risposte hanno ovviamente fatto presente che ci sono dei problemi di carattere burocratico di personale che noi abbiamo già iniziato a superare con 4 milioni di euro che abbiamo stanziato in tutta la Sardegna per quanto riguarda proprio l'implementazione degli uffici unici di progetto in tutte le unioni comuni e quindi anche quella del margine che porta avanti quest'atto aggiuntivo poi da ottobre inizieremo parallelamente un percorso per la nuova programmazione territoriale che partirà di fatto in primavera utilizzare in particolare i nuovi fondi europei e spero solo in minima parte i fondi regionali insomma ci siamo siamo entusiasti e siamo convinti che la programmazione territoriale rappresenti un utile strumento iniziato con l'amministrazione Pigliore e l'assessore Pace e proseguito con l'assessore Fasolino uno strumento utilissimo per combattere quei fenomeni quali piaghe e quelli dello spopolamento e questa era l'ultima notizia del nostro appuntamento con l'informazione grazie per averci seguito e buon proseguimento grazie per averci seguito